Ciao a tutti i fan della pagina Facebook dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale YouTube Stefano Maggi Orto Dio ci troviamo all'Orto Dio e oggi vi ho già fatto vedere che con la primavera sono arrivati i primi frutti le nespole, le fragole, le ciliegie per quei pochi fortunati che ce l'hanno ma dobbiamo pensare anche alla frutta per l'autunno, scusate, per l'inverno, per i momenti più freddi ad esempio a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, voi che vi bagnate le frutta? indubbiamente c'è poca roba, ecco un frutto che si raccoglie proprio verso ottobre, novembre e poi si conserva un bel po' soprattutto in frigorifero è il kiwi e come sapete all'Orto Dio abbiamo qualche kiwi, vuoi quei kiwi? abbiamo qualche kiwi, anche se ho scoperto che non è così facile la coltivazione dei kiwi infatti di quattro femmine che avevo due me ne sono già morte e due invece sono ancora vive per fortuna e il maschio non è morto però all'inizio stava male, ci sta avendo uno sviluppo tardivo infatti cosa è successo quest'anno? è successo che le due femmine hanno cominciato a fare i fiori ma il maschio stava senza fiori e quindi i fiori femmina non impollinati dal fiore maschio non fanno kiwi e guardate cosa ci saremo persi guardate quanti bei fiori stanno facendo queste kiwi femmina vedete tutti questi bei fiori, questi bei fiori bianchi vedete? ci hanno l'ovario qui al centro e ai lati ci hanno tutti i stami che però non sono fertili altrimenti si potrebbe impollinare da solo ma il kiwi non è un'ermafrodita quindi c'è bisogno del fiore maschio e siccome non ce l'avevo ho fatto come avevo fatto anni fa sono andato alla kiwara qui vicino con la differenza che la kiwara qui vicino nel frattempo non la coltivano più è stata abbandonata però sono comunque riuscito a trovare un maschio ancora vivo che aveva dei fiori ecco qui il fiore del maschio come potete vedere non c'ha l'ovario al centro ci sono solo gli stami col polline eccone un altro e quindi cosa facciamo? molto semplicemente andiamo a far toccare il fiore maschio col fiore femmina ecco che stiamo facendo fare una bella trombata ai fiori del kiwi adesso in questo modo dei piccoli granuli di polline rimarranno appiccicati su questi stiletti che c'ha l'ovario e in questo modo il fiore diventerà fertile diventerà impollinato e andrà a produrre un kiwi ora qual è il problema? qual è il problema di fondo? che la maggior parte dei fiori vedete stanno lì sopra e quindi sì noi potremo lasciare questi fiori appesi qui vicino sperando che il vento o gli insetti aiutino l'impollinazione ma la cosa migliore mi è venuta un'idea guardate che idea che ci ho avuto questa è la canna col fiore questa è la canna col fiore per impollinare anche in alto vedete? per impollinare anche in alto per impollinare anche da lontano dove non si arriva vedete? ecco e così quest'anno verso ottobre o novembre ci avremo un sacco di kiwi li impollino tutti e una volta finiti di impollinarli i fiori li lasciamo qui proprio per il discorso che dicevo che gli insetti e il vento potranno continuare il lavoro e siccome ci sono molti fiori che si devono ancora aprire magari tra un po' di giorni tra una settimana quando questi fiori si saranno disfatti saranno svaniti con le intemperie visto che non sono più attaccati alla pianta dureranno poco magari andremo a prendere altri fiori e rifaremo un lavoro simile niente io vi ho detto tutto e per ora vi saluto non vi faccio vedere le fragole che ve l'ho già fatta vedere l'altro giorno ma ci abbiamo un sacco di nespole e fragole e se ci venite a trovare lo scoprirete anche voi un abbraccio dallo sciamano ciao belli